Un consumo minore di alcol tra i giovani siracusani alla guida ma aumenta in proporzione il consumo di sostanze stupefacenti su questo la Polstrada. Scatta la sua fotografia. C'è una novità per quanto riguarda i vostri interventi su strada, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. C'è un fenomeno molto allarmante per la Polstrada, ovvero non c'è più in proporzione un eccesso di consumo di alcol quanto sale piuttosto l'eccesso alla guida di droghe. Direi che c'è un dato positivo e un dato negativo. Il dato positivo è che dopo sette anni di attività svolta congiuntamente al personale dell'ASP abbiamo raggiunto questo grande risultato che è meno alcol. Rispetto a sette anni fa il dato ci conforta, i ragazzi bevono sempre meno o quantomeno dopo aver bevuto designano un guidatore che possa portare a casa sani e salvi. Il dato negativo, la lettura del dato è che la moderna tecnologia ci consente in maniera molto più semplice, molto più snella attraverso i precursori del drug test e attraverso, anche grazie soprattutto all'ausilio del personale medico e infermieristico dell'ASP, di controllare anche le condizioni tossicologiche per quanto riguarda l'assunzione di sostanze stupefacenti. Qui il dato, come diceva lei prima, è un dato un po' allarmante perché c'è un consumo sempre maggiore di sostanze stupefacenti in maniera particolare rispetto a quello verificato nel corso di tutti i mesi estivi di cannabis e di cocaina.